A poco più di un mese dall'inizio della maturità per gli studenti del quinto anno delle scuole italiane manca ancora una decisione definitiva sulle modalità secondo le quali si svolgerà. La ministra Lucia Zolina continua a portare avanti l'idea di effettuare la maturità in classe ma i dissensi sono sempre maggiori visto i rischi che si correrebbero. Questa volta schierarsi contro questa decisione è l'Associazione Nazionale Presidi che mette in evidenza tutte le perplessità riguardo l'applicazione di questa scelta, perplessità che condividono anche docenti e personale ATA. La richiesta portata avanti dai presidi è quella di una risposta rapida che ancora non è arrivata dal ministero, la volontà di sapere con quale regola verrebbe svolto questo esame in classe mantenendo la sicurezza necessaria che in alcune strutture di determinate dimensioni non è possibile garantire. Non solo il corpo scolastico tutto ma anche i sindacati fanno pressioni per una risposta sulla questione ma al momento l'ipotesi di tornare in classe per l'esame di maturità sembra allontanarsi.